Stefano Di Chiara, il nuovo allenatore della Fermana, sostituisce i vogliaconi, esonerato a seguito dei risultati fallimentari della squadra ultima in classifica. La Fermana e Fermo non meritano il posto in classifica che attualmente detiene. Nella nottata è stata una nottata veramente da incubi, però ho deciso di prendere Stefano Di Chiara. Quello che ho fatto da giocatore lo sapete, anche quello d'allenatore negli ultimi anni, spero di continuare a confermarmi perché questa è la mia professione e quello che voglio fare anche da grande. Noi daremo sempre il massimo ogni domenica, questo è quello che chiederò ai miei ragazzi e alla mia squadra ogni domenica, poi alla fine diremo le somme di questo nostro impegno. Obiettivo salvezza dunque, da questo punto di vista Stefano Di Chiara ha tutte le carte in regola. L'anno scorso infatti, appena seduto sulla panchina del Siena in C1, riuscì a accentrare l'obiettivo. Il contratto avrà validità fino alla fine del campionato, poi si vedrà. Oltre a Di Chiara, la Fermana si avvarrà della collaborazione di un nuovo preparatore atletico, Sandro Fantoni. Il debutto del nuovo allenatore è previsto per domenica prossima, quando la Fermana sarà impegnata in trasferta contro la Salernitana.